Oltre un milione e mezzo di euro raccolti grazie ai 42.000 spettatori presenti allo Juventus Stadium e alle donazioni dei telespettatori, questi i numeri della 24esima edizione della partita del cuore. L'incasso è stato destinato alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro e alla Fondazione Teleton sulle malattie genetiche. In tribuna anche il Vice Presidente del Consiglio regionale in rappresentanza dell'Assemblea legislativa. In questo genere di partita siamo felici della bellissima risposta del pubblico sia qui di Torino che non ha mancato di sostenere questo genere di iniziative e poi del pubblico a casa che ha donato. La cifra è molto importante, è un grande segnale che l'Italia dà a questo genere di eventi. Noi siamo veramente contenti di poter servire a qualcosa, di poter servire alla ricerca, di poter dare possibilità a tanta gente che ne ha bisogno di poter avere un piccolo sorriso, una piccola speranza, perché di speranza si parla, perché la ricerca è sempre una speranza che si possa fare meglio, quindi se noi aiutiamo le speranze, le speranze prima o poi ci portano un sorriso, almeno questa è la nostra idea.